Grazie a tutti. Soprattutto discutendo di quelli che possono essere i nostri progetti per il prossimo futuro, anche di coloro in questo momento magari per vicissitudini personali legati alla vita si trovano a dover affrontare queste difficoltà con un mete di discussione con Equitalia che ha in sé tutta una serie di cose male. E' una serie di cose organizzate che incidono poi in quello che può essere l'aspetto proprio della discussione di fronte a un fatto che comunque è dovuto. Nel senso che le tasse devono essere pagate da tutti quanti. Ci possono essere dei momenti in cui per mancanza di tanti elementi, spesso anche la lucidità, perché chi si trova coinvolto in questa forbice, in questa tenaglia, magari per tanti motivi di dignità eccetera eccetera, non riesce a essere sufficientemente l'attezza per dominare quella che è una situazione. Che invece in un luogo come questo che presto apriremo anche qui a San Lui avrà modo di poter essere ascoltato prima di tutto, analizzato e eventualmente insieme con un'attività assolutamente legata all'attivismo possiamo in qualche maniera gestire quelle che possono essere le situazioni di emergenza. Noi stasera abbiamo delle persone che hanno portato avanti questo tema, anche e soprattutto del regno parlamentare, altre che invece lo stanno portando quotidianamente nell'attivittorio attraverso il loro impegno ma anche attraverso la loro testimonianza anche nei confronti di chi effettivamente ha bisogno. Io direi di dare un po' la parola a queste persone perché chiaramente ci fonderanno anche delle oscillazioni su quello che sarà il futuro di una situazione che stiamo affrontando, ma soprattutto di quello che possiamo fare noi come attivisti. Prendono restando che in questa sede chiaramente noi abbiamo intenzione di essere veramente molto utili nei confronti delle persone che vivono in questo stato di bisogno. Io do la parola a De Manuela che è stata la promotrice parlamentare di questo. Grazie Luigi. Allora diciamo che questo lavoro su Equitalia fa parte intanto di uno dei punti programmatici dell'ambiente 5 Stelle a livello nazionale, quindi l'abolizione di Equitalia, sapete, fa parte del nostro programma. Però al di là di quello c'è tutto un lavoro da fare che riguarda la riscossione e questo ente di riscossione che ormai è diventato una sorta di flagello per questo paese, tutto un lavoro che va fatto a livello parlamentare per verificare situazioni che esistono ormai in anni e che sono ben note comunque anche all'attuale classe politica. Purtroppo notiamo che non si fa molto in questo senso e questo probabilmente perché questo stesso carrozzone Equitalia è comunque diciamo uno dei tanti baluardi comunque della politica. molti diciamo dirigenti di Equitalia ma tanti anche di coloro che sono ai vertici sono nominati comunque dalla politica quindi sarebbe illogico che diciamo chi poi nomina dovesse poi mettersi in contrapposizione con queste persone. quindi è ovvio che sono dei carrozzoni che trascinano tutta una serie di clientele, di situazioni poco trasparenti. Giuseppe Carboni che è il presidente dell'Associazione Artigiani di Sesto ci può testimoniare, questo può sempre che lui si occupa di queste tematiche da anni. Giuseppe è una di quelle persone che con noi ha lavorato ad alcuni anni parlamentari che abbiamo presentato per esempio sulla cosiddetta dei messi notificatori. Tra l'altro so che abbiamo ricevuto una risposta oggi. Poi vi aggiornerò. Non so ancora quale sia il contenuto, non credo che sia soddisfacente perché già quando presentato il question time in interrogazione, chiamiamola così, in aula la risposta fu abbastanza diciamo poco chiara, nel senso che il ministro ci disse che aveva già attivato tutte le ispezioni nelle sedi regionali proprio per la problematica dei messi notificatori non correttamente contrattualizzati, però ancora ad oggi stiamo aspettando le risposte. Poi dopo è arrivata anche la sentenza della Corte Costituzionale sui dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Si stanno identificando una serie di situazioni che comunque stanno mettendo in luce tutte le problematiche di quello che ormai è un groviglio dal quale non si riesce più a uscire. Certo è che abbiamo il settore che la stessa Equitalia possa aver evaso il fisto. Per esempio sul discorso dei messi notificatori non sono stati versati i contributi a migliaia e migliaia di lavoratori e già quello dovrebbe allarmarci perché dico Equitalia comunque sta lavorando per lo Stato e fa parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi è un tutt'uno con lo Stato e dovrebbe in primis essere controllata a tutti i livelli. Invece cosa accade? Se proprio lo Stato dovrebbe operare in una certa maniera si macchia di quelli che a nostro avviso sono dei delitti perché quello che sta succedendo con la riscossione, col sistema di Equitalia è che oggi ai poteri dell'ufficiale giudiziario che sta ignorando le aziende ogni giorno sentiamo storie veramente drammatiche di persone che vengono comunque che perdono le attività, che perdono la prima abitazione addirittura finiscono in strada a causa di questo indebitamento e sembra che questa situazione non abbia alcuna soluzione. Noi abbiamo già detto che le tasse ovviamente le devono pagare tutti però è anche vero che ci vuole maggiore debilità non si può essere forchi con i deboli e deboli con i forchi questa è una cosa inaccettabile quindi bisogna tutelare quel tessuto sociale tutti quei lavoratori che oggi appunto stanno perdendo tutto a causa di questa problematica anche perché, ripeto, è una problematica che per me è diventata sociale è un allarme sociale noi l'abbiamo visto perché recentemente abbiamo inaugurato il primo punto civico dedicato appunto a queste tematiche e in una giornata i nostri amici attivisti ce lo possono testimoniare sono arrivate tantissime persone da tutta la Sardegna quindi è chiaro che c'è un problema un problema che è stato tacciuto per troppo tempo e che comunque va affrontato noi con il Movimento 5 Stelle stiamo tirando questo non vogliamo creare un'ulteriore allarme sociale stiamo cercando di farci carico anche noi di questa problematica e trovare magari delle soluzioni proprio per evitare che poi questi ingrami sfocino in situazioni ancora più drammantiche molti imprenditori si sono suicidati per questo motivo però purtroppo accade anche quello per quanto riguarda il punto civico è una cosa importante quello di Cagliari è un esperimento quindi necessita di una fase di rodaggio proprio perché è tutto diciamo tutto si svolge nel più complesso nel senso del Movimento 5 Stelle a livello civico è tutta diciamo opera dei nostri attivisti che si prestano gratuitamente questo va detto perché qualcuno stava anche gli si mandano un po' di specie ahimè per loro lo fanno gratis e lo fanno con piacere come dovere civico così come sono tutte le attività del Movimento 5 Stelle ripeto questo punto civico per adesso resterà unico in Italia per alcuni mesi perché necessita di una fase di rodaggio e ovviamente per attivarne degli altri dovremmo ovviamente verificare quanto e come sarà efficace questa idea perché ripeto è un esperimento e prima ovviamente di attivare altri diciamo altri punti civici abbiamo necessità di capire esatto esatto il funzionamento comunque siamo feliciosi perché abbiamo delle persone capaci abbiamo con noi anche oltre agli attivisti anche Giuseppe che ci sta dando una mano e basta per il resto che dire Luigi il nostro Luigi si è ha già detto che è pronto operativo per inaugurare il prossimo punto civico dobbiamo solo attendere questa fase ripeto comunque di rodaggio il bene che è lavorato mentre noi guardavamo mani pulite da una crica di apparisti che ha convinto lo Stato a trasformarsi in molte sue funzioni in essi appiati di tipo privato per favorire questo è l'ottice e quindi avete potete avere provato che alcuni di questi gentiluomini che siedono in questi posti sono in realtà di obbedire tutti le stoffanti prima o poi questa cosa avvenirà che verranno smascherati al momento noi comunque nel nostro piccolo dobbiamo preparare in queste istanze muovere gli avvocati quando sono essi preparati per assisterci e vedere di far valere le nostre giuste prerogative il movimento politico a sua volta può muovere delle interrogazioni parlamentari o per fare delle proposte di legge e fare anche le proprie obiezioni delle commissioni delle sedi competenti e quindi in questo modo si fa sistema pertanto noi non possiamo che ringraziarvi come associazioni volontarie noi ci siamo interessanti in questa materia con un unico grande obiettivo non dobbiamo fare più cioè dire non appena si riprendessero le condizioni normali in vita normale ognuno di noi dovrebbe ritornare nella propria vita per poter continuare a occuparsi delle proprie cose ma sinché questo non è la nostra preoccupazione principe è quella di non mollare la spugna perché per non lasciare un domani i nostri figli in una condizione in cui questo tipo di normative inquinate da questi squali se già ha fatto pezzi in noi ci farebbe ancora molto più mistiare nella tomba se facesse a pezzi i nostri figli quindi sinché questo non sarà sinché queste leggi non cambieranno noi saremmo al fianco di qualsiasi parlamentare di qualsiasi cittadino onesti che si voglia battere quantunque noi non siamo sicuramente cittadini di modello però ci veniamo utili per questo aspetto a dare una mano per quanto possibile e combattere le ingiustizie e portarle in un alveo di ragionevolenza e di razionalità quindi sarò brevissimo non possiamo che ringraziarti e se serve me ci ha cosa a disposizione grazie ringraziare tutti e speriamo che il candidato sindaco di San Duglio abbia al massimo un risultato perché non può che farci piacere persone da quel che ci conosciamo che sviluppano questa sensibilità in quella direzione ecco in sostanza la lotta equitaria ma come tutte le lotte che il momento 5 stelle fa è una lotta di legalità a prescindere da tutto ecco le tasse vanno pagate non sono i nostri nemici dipendenti di equitaria però nel contesto quando la cina di equitaria distrugge tutto il tessuto produttivo qualcosa non funziona quindi spetta dal passo fare le temati per cose conoscere la macchina perché è una regola è una costante se conosci la macchina la puoi utilizzare e la puoi anche fermare ecco questo è il principio anzi consiglio tutti più grande delle passioni e si vuole specializzare in determinato ci si mette a lavorare non sono né più bravo anzi non sono né più intelligente né più bravo di tante altre persone semplicemente ci ho messo passione perché mi sono trovato con un problema da risolvere dove spesso molte persone ti chiedono la poca ecco quindi si è iniziato un proposito di conoscenza secondo la legge ecco non ci studiiamo agli avvocati e non dobbiamo creare false aspettative a maggior ragione quando c'è un movimento dietro qualsiasi parola qualsiasi azione che uno fa bisogna apprezzarla come giustamente diceva ma noi la frediamo come sono tutte le cose l'importante è qualsiasi se ne nascono centomila di sedi di punti per vendano però ci deve essere tutta una sinergia una proprio perché non si può sbagliare soprattutto quando dobbiamo dire delle cose alle persone che riguardano il loro futuro ci sono i poteri ci sono i miglioramenti ci sono quindi bisogna stare molto attenti e non cadere ne la cultura dell'ambistato noi siamo proprio per il rispetto dello Stato quindi ho fatto una miglioramenta da tanti anni le altre persone le ho conosciute da poco però è come se ci conoscessimo da anni e trovo in tutti i punti ho avuto modo di vedere il movimento 5 stelle un ambiente proprio tranquillo fechissimo da vivere da stare cioè fa piacere stare l'ho visto a Sestu l'ho visto quando sono salito a Roma non bisogna neanche sapere dove sono sono in un posto dove si sta bene dove c'è gente onesta pulita che vuole cambiare le cose ecco noi dobbiamo prendere a nessuno di studiare il nostro futuro abbiamo delle responsabilità anche su quel bambino che passeggiava su quel bambino che passeggiava qua dobbiamo metterci a tutta per dare il nostro contenuto il punto civico funzionerà con massimo di impegno perchè ci sono delle risorse umane delle conoscenze della capacità e abbiamo già dato risposta a tante persone ecco io so che qui a San Uri ci sono ci sono degli avvocati qualche commercialista ancora di più perchè chi fa quel tipo di lavoro è mentalmente aperto ecco e non siamo noi per insegnare noi siamo semplicemente per coordinarci quindi chi è già avvocato e cosa farà in un attimo ad aprire però l'importante è che ci sia questa sinergia dopodichè faccio un po' calunco e spero che il nuovo 65 sede abbia il migliore risultato possibile prendere una cabella dal basso e dall'alto e voglio ringraziare Emanuela perché guardate chiede una cosa bellissima come cittadino avvene dei problemi della terra andarne e poi vederli che il giorno dopo se ne parla con interrogazioni questo significa che c'è una speranza che quei problemi non sei solo che però risolvono c'è la possibilità di risolverli piano piano questo è un percorso che dobbiamo fare tutti insieme tralasciando invidie genosie perché è solo quello che andiamo a fargistare e tra di noi è capirci e andare avanti grazie a noi perché ci sta andando veramente una grande mano e che soprattutto insieme a Giuseppe stanno portando avanti il punto civico di Galliani lei è scritto allora grazie anche perché si è portata la stanza anche verso le tue le tue le tue dire soltanto che oggi a San Uri c'è un grande cambiamento finalmente i cittadini comuni stanno con il consenso che i cittadini di San Uri entrano a far parte di questo consiglio al diavolo che vincano che a San Uri e sta a legge quindi è un nuovo passo dove i cittadini comuni entrano nelle istituzioni un amore a Lucia e a tutta la città grazie 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 allora sì come ha detto Samuele speriamo che tutto vada secondo le nostre speranze perché ovviamente questa è una speranza non dimentichiamocelo però io ripeto lo sto dicendo un po' dappertutto comunque vada sarà un successo perché perché il Movimento 5 Stelle ha già comunque vinto già il fatto di essere qui di aver partecipato alle elezioni di poter mettere dei cittadini onesti delle persone all'interno delle organizzazioni a controllare quello che sta succedendo e soprattutto a mettere un freno ovviamente a una situazione che sta degenerando e questo ci deve fare ben sperare noi siamo ottimisti e Lucia è una persona ingannissima so che è una persona estremamente tranquilla estremamente serena però pare che si trasformi in un ottenico guerriero e in un ottenico William Wall è un po' alla fine di San Julio il lavoro è che è un po' di un figlio lui è un po' che lo conoscete anche di me lui ha tutte le capacità per poter fare benissimo con il sostegno ovviamente di un gruppo a 5 stelle che è un gruppo che ha di competenze di intelligenza lo sta dimostrando siete tra l'altro già pronti anche per attivare il pacco civico io spero che andremo verissimo tutto ciò possa avere un seguito e ripeto attendiamo adesso fiduciosi gli essi di queste amministrative però ripeto noi siamo siamo molto tranquilli siamo tranquilli perché sappiamo di percorrere la strada giusta che è quella comunque dell'onestà grazie grazie a voi delle idee siamo portati veramente un modo di pensare che noi abbiamo chiamato diverso proprio perché non dobbiamo non vogliamo fare mai più quello che abbiamo fatto gli altri uno dei primi presupposti del nostro essere per esempio in campagna elettorale che oggi siamo concludendo è stato proprio questo noi riuscivamo a fare tutto quello che è permesso nel nostro programma esclusivamente con l'aiuto dei nostri concittadini perché chiederemo di non essere più cittadini che ci mandano dentro e poi non scurano più di quello che può essere l'amministrazione pubblica vogliamo che ci siamo cittadini che insieme a noi vengano dentro il comune e poi